Non finiscono mai i colpi di scena nell'inchiesta Coingas, dopo la notizia di alcuni giorni fa del silenzio rotto da Sergio Staderini di fronte al PM, adesso quella di un secondo interrogatorio, sempre dell'ex amministratore unico di Coingas, nonché ex uomo di fiducia, di Alessandro Ghinelli. Oltre a quello del 17 dicembre scorso, del quale nei giorni passati erano trapelati verbali, c'è stato infatti un altro appuntamento con il procuratore Roberto Rossi, tema dell'incontro in questo caso lo stralcio d'indagine nato dal filone principale, ossia quello che vede al centro Francesco Macri, per il quale le accuse, ancora tutte da dimostrare, vanno dall'abuso d'ufficio al peculato e che nel luglio scorso aveva portato alle perquisizioni nelle sedi di Arezzo e Prato di Estra. Un interrogatorio precedente a quello del 17 dicembre, di cui ancora non si conosce molto, perché i contenuti sono coperti dal segreto istruttorio, al contrario dell'altro le cui trascrizioni sono state depositate dalla procura. Saderini, che si sarebbe presentato di fronte al magistrato anche con una memoria scritta, è indubbiamente uno dei personaggi chiave di questa inchiesta, nata da una lettera anonima ritrovata nel suo computer dalla Digos nel luglio 2019. La missiva, in realtà mai spedita, conteneva infatti accuse durissime, tutte da dimostrare, soprattutto nei confronti di Macri, ed adesso è entrata a far parte del fascicolo. Intanto, per quanto riguarda il filone principale, dovrebbe essere fissata a breve l'udienza preliminare di fronte al gruppo Claudio Lara, con la quale sarà deciso se rinviare a giudizio i 13 nomi eccellenti della vita politica ed amministrativa a retina.